In Italia è nato il primo ucraino cui madre è scappata dalla guerra, decine di bambini ucraini con le contusioni, con le ferite sono nei vostri ospedali e noi vi siamo molto grati, aspettiamo quando potranno tornare a casa in Ucraina, un'Ucraina di pace e qui voi potete aiutarvi di sicuro, dal primo giorno di questa guerra voi avete condiviso con noi il nostro dolore e aiutate di cuore gli ucraini e gli ucraini lo ricorderanno sempre, il vostro calore, il vostro coinvolgimento e la vostra forza che deve fermare una sola persona, una sola affinché sopravvivano i milioni. Gloria all'Ucraina e grazie all'Italia. Un grande omaggio, eh? Grazie. 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 Grazie.